Ciao a tutti. Siete nel canale Impulso della Terra. Ricordatevi di iscriversi nel canale per essere sempre aggiornati di ultimi notizie. Buona visione. Più video faccio sullo spazio, più sono convinto che l'astronomo sia una delle professioni più interessanti di questo mondo. L'universo è diabolicamente insidioso. Ogni volta che questi ragazzi si avvicinano a comprendere le sue leggi anche solo di un centimetro, lei li lancia immediatamente indietro di 20 metri, dando un'altra sorpresa. Un buon esempio di ciò è l'oggetto HD10-6906β, che distrugge letteralmente tutte le idee attuali sullo spazio. Almeno ora tutto indica esattamente questo, e ora te lo presenterò. È successo nel deserto cileno di Atacama il 4 dicembre 2013. Un team di astronomi, armato di un potente telescopio di 6 metri e mezzo, ha osservato la stella HD10-6906. Si trova nella costellazione della croce australe a una distanza di 300 anni luce dal sole. Improvvisamente. Uno dei membri della spedizione, una studentessa laureata dell'Università dell'Arizona, Vanessa Bailey, ha visto una strana radiazione avvolta in una foschia trasparente nella luce lontana. Vanessa ha scattato diverse foto del fenomeno insolito. Successivamente. Ha iniziato uno studio dettagliato della sua scoperta, si è scoperto che il bagliore è emesso da un enorme pianeta, a cui è stato assegnato il numero di codice HD10-6906β. Ulteriori ricerche hanno confermato che il ritrovamento è di dimensioni davvero impressionanti. È 11 volte più grande di Giove. Cioè. La sua massa è più di 5 volte il peso di tutti i pianeti del sistema solare messi insieme. Anche la temperatura è impressionante, sulla sua superficie 1500 gradi Celsius. Si scopre che è molte volte più caldo di Venere o Mercurio. Tuttavia. Sulla scala dell'universo, un gigante così incandescente non è affatto unico. Sono stati scoperti molti oggetti spaziali che sono molto più grandi e più caldi. Ma questo pianeta ha preparato molte sorprese per gli scienziati. Si è scoperto che nessuna teoria può spiegare come sia successo. Secondo le leggi dell'universo, è destinato a nascere da un disco protoplanetario, un vortice di piccole particelle e gas che ruota attorno a una stella, il pianeta successivamente formato dovrebbe rimanere all'incirca nello stesso spazio. Ma HD 10, 6906 Beta è ben oltre il disco protoplanetario. A una distanza di 97 miliardi di chilometri dalla sua stella. È anche incredibile come se il bambino al momento della nascita fosse in diversi continenti con sua madre. Gli scienziati hanno cercato a lungo di capire come il gigante si fosse trovato così lontano dal luogo della sua nascita. All'inizio pensavano che il pianeta fosse migrato, i giganti gassosi spesso fanno proprio questo. Avendo raggiunto circa 30 masse terrestri, questo è leggermente inferiore al peso di tre giove, iniziano ad assorbire tutto il gas intorno a loro e crescono come una palla di neve. Dopo milioni di anni, il materiale da costruzione finisce e quindi l'astro è in grado di intraprendere un viaggio spaziale, a volte lungo miliardi di chilometri. Ma la versione sulle peregrinazioni di questo pianeta non è stata confermata. Se fosse stata davvero una migrante, avrebbe lasciato una scia nella quasi stellare nuvola di polvere e gas, cambiando notevolmente la sua forma. Nessuno dei ricercatori è riuscito a trovare una tale impronta. Quindi gli scienziati hanno avanzato l'ipotesi che in realtà il gigante si trovi in un sistema stellare completamente diverso? HD 1069-06β si sta solo muovendo nella direzione della stella vicino alla quale gli astronomi l'hanno notata, osservando potrebbe sembrare che questi due oggetti spaziali non siano così lontani l'uno dall'altro, ovviamente, per gli standard cosmici. Ma questa teoria non è stata confermata da calcoli matematici. Presto. I ricercatori hanno notato un'altra caratteristica dei pianeti che potrebbe far luce sulla sua origine. L'orbita dei giganti si è rivelata incredibilmente enorme, 22 volte più grande di quella di Nettuno. Perché un corpo celeste lo attraversi ci vogliono circa 1500 anni, ma non è questo il mistero. L'orbita di HD 16906 ha la forma di un'ellisse molto allungata, mentre altri pianeti ruotano attorno alle loro stelle quasi in cerchio. Si scopre che su un bordo dell'ellisse, il gigante gassoso si allontana dalla stella di 97 miliardi di chilometri e dall'altro si avvicina quasi da vicino. Questo non si adatta in alcun modo alle sue enormi dimensioni. Tali orbite sono più tipiche per quasi satelliti, asteroidi e comete relativamente piccoli, ma non per i giganti. Una rotazione così insolita attorno alla stella può spiegare solo una cosa, questo pianeta è un alieno nato in un sistema completamente diverso. Una volta entrato nel campo gravitazionale della stella HD 106406 e gradualmente gravitato verso di essa, ottenendo un'orbita allungata. Sfortunatamente, anche questa teoria ha un problema. Il pianeta è molto giovane, ha solo 13 milioni di anni. In così poco tempo è impossibile superare una distanza così grande, e nelle vicinanze non sono stati trovati fino ad oggi altri depositi planetari. Poiché non è stato possibile scoprire l'origine del gigante, gli scienziati si sono chiesti se potesse essere considerato un pianeta. Dopotutto. Se assumiamo che HD 106906 beta sia in realtà una stella, tutto andrà immediatamente a posto. Provenienti da una nube di gas parallela ad un'altra stella, ruotano insieme attorno a un comune centro di massa. E tutto sarebbe andato insieme, se le categorie di peso dei vicini spaziali fossero così diverse. Ci sono molti sistemi stellari binari nell'universo, ma la differenza nella loro massa, secondo i dati esistenti, non dovrebbe superare 10 volte la dimensione, e il nostro oggetto è fino a 100 volte più piccolo della sua stella. È vero, i ricercatori non erano perplessi, e lo stesso ha avanzato una teoria diversa, ma cosa succede se si tratta di una stella fallita o di una nana bruna. Ma ancora una volta, la nana dovrebbe essere almeno 13 volte più grande di Giove e il pianeta dalla croce meridionale è solo 11 volte più massiccio di esso. Tuttavia, c'è un'altra ipotesi sull'origine misteriosa di questo oggetto. Nell'ultimo decennio, gli scienziati hanno rivisto le loro opinioni sulla formazione dei pianeti, hanno calcolato un milione di particelle in orbita attorno a un modello computerizzato del Sole emergente. Si è scoperto che mille anni sono sufficienti per formare un gigante gassoso, e non milioni come si pensava in precedenza. Le orbite di tali pianeti sono allungate e si trovano a una distanza di oltre 300 unità astronomiche dalla nana gialla. Si scopre che il misterioso gigante gassoso non ha volato lontano dalla sua stella, è apparso originariamente nel sistema della croce meridionale e ora si sta avvicinando lentamente alla stella. Tuttavia, questa teoria ha anche un punto debole, la distanza tra il pianeta e la stella madre è quasi il doppio di quanto mostrano i calcoli, ovvero 650 unità astronomiche. Ma gli studi sono stati condotti tenendo conto dei parametri del Sole, mentre la stella attorno alla quale ruota il gigante gassoso è una volta e mezzo più massiccia. Forse questo emendamento consentirà di dimostrare la correttezza di questa teoria. Resta solo da aspettare che gli scienziati lo confermino o meno. Fortunatamente, vicino al pianeta è stato conservato un disco di materia primordiale, che probabilmente aiuterà il ricercatore a ottenere risposte più chiare a tutte le domande. Nel frattempo, anche Vanessa Bailey non osa chiamare la sua scoperta un pianeta, nelle sue opere indica solo che si tratta di una compagna di una stella con una massa planetaria, tale incertezza ha impedito al pianeta di ottenere un vero nome completo invece di questi numeri noiosi. Nell'anno della sua apertura, il fan australiano della serie cult di fantascienza Doctor Who ha presentato una petizione per rinominare HD106906 Beta Gallifrey, il cosiddetto pianeta natale del protagonista della serie. Tuttavia, la richiesta è stata respinta, perché lo status del gigante non è stato definitivamente stabilito e le controversie sulla sua origine sono tuttora in corso. Tuttavia, HD106906 Beta ha già capovolto molte idee sull'universo. In precedenza, si credeva che i pianeti fossero sempre relativamente vicini alle stelle, ma ora è diventato chiaro che sono in grado di esistere molto, molto più lontano dalla loro stella. Ciò significa che il sistema solare teorico può avere anche pianeti molte volte più grandi di Giove, e che ruotano attorno alla nostra stella a una distanza di decine di miliardi di chilometri. È possibile che lo studio del gigante gassoso e del suo ambiente celeste in futuro ci aiuti a saperne di più sulla nascita della Terra. Gli astronomi suggeriscono che la Croce del Sud è simile al sistema solare all'età di 13 milioni di anni, lascia che ti ricordi che ora ha circa 5 miliardi di anni. Forse grazie all'indizio sull'origine del misterioso HD106906 Beta, in futuro potremmo addirittura riuscire a evitare una catastrofe cosmica. Se il pianeta risulta essere migrante, le informazioni raccolte da esso consentiranno di prepararsi alle visite di tali vagabondi interstellari. Dopotutto, un giorno, uno di loro sarà in grado di passare vicino al sistema solare o di attraversarlo. Tale scossone può portare alla convergenza dei pianeti e al cambiamento delle loro orbite. Quindi, la Terra può essere gettata nello spazio interstellare e si trasformerà per sempre in un pianeta emarginato. Almeno gli scienziati dell'Università di Cambridge Dimitri Veras non lo escludono. È vero, a suo avviso, la probabilità di un tale sviluppo di eventi è trascurabile. Forse un'ulteriore esplorazione di questo misterioso pianeta porterà altre scoperte uniche. Per realizzarli, gli astronomi di tutto il mondo studiano a fondo il gigante gassoso e senza dubbio, prima o poi, HD10-6906 beta rivelerà loro sicuramente i suoi segreti. Grazie per aver guardato il video. Se vi piaciuto, ricordate di mettere mi piace e iscriversi nel mio canale per essere sempre aggiornati di cataclismi della pianeta.